Un arsenale per uccidere e droga in abbondanza per assecondare la domanda commerciale di centinaia di clienti. Tutto interrato in due bidoni di plastica all'opera della vegetazione dei Monti Lattari, un luogo inospitale quasi impossibile da individuare, non per i carabinieri della stazione di Gragnano che monitorano costantemente anche quel versante della montagna. Tutte le strade sono battute, soprattutto quelle più difficili, in una ricerca che sembrerebbe quella di un ago in un pagliaio. Impegni ed esperienza tuttavia premiano e i militari hanno sottratto ancora una volta strumenti di morte dalle mani della criminalità. Un mitragliatore con silenziatore, tre pistole calibro 9, una con matricola punzonata e una risultata provento di un furto commesso nel 2017 in un comando di polizia municipale in provincia di Torino e 65 proiettili dello stesso calibro. E ancora 18 busti al cui interno erano racchiusi circa 18 kg di marijuana già essiccata e pronta per lo smercio. Non mancano i bilancini in materiale vario per la preparazione delle dosi. Le armi erano confezionate in modo da resistere all'umidità e al tempo. Saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici affinché possono essere abbinate a eventuali fatti di sangue. La droga invece era imballata in atmosfera protetta per mantenere inalterata l'essenza della cannabis. Nonostante l'attenzione per il consumatore finale, grazie all'intervento dei militari, l'erba non raggiungerà mai in mercato e sarà distrutta.